Buongiorno ragazzi, buongiorno, lunedì si corre al lavoro, sono partito qualche minuto in ritardo perché diluvia e quindi ci ho messo un po' a preparare tutto, a sistemarmi, doccia non doccia e adesso speriamo non ci sia troppo traffico, poi guardate c'è in fondo i nuvolozzi, là ci sono i nuvolozzi grigi, belli arrabbiati e quindi secondo me tra qualche ora verrà giù il demonio, adesso sono indeciso se parcheggiare la macchina in strada come al solito oppure se metterla dentro degli appositi parcheggi che ci sono al lavoro non so, vediamo quanto tempo ci mettiamo per arrivare in ufficio in base a quello decido anche perché a me piace arrivare sempre tra le 8.30 e 8.40 massimo in questo range però quando piove di solito ci posso mettere anche un pochino di più, purtroppo aspetta che mi spengo il condizionato, vero perché c'è freddino, ci sono 18 gradi cioè siamo passati da 38 a 28 a 18 nel giro di una settimana ragazzi, da morire comunque ragazzi è lunedì, voi lunedì sapete benissimo cosa succede nella mia routine devo editare le clip del canale youtube americano Now You Know e quindi oggi mi dedicherà almeno le solite canoniche 2-3 ore oltre al lavoro normale, mannaggia, oddio i capelli no, me li devo spazzolare stamattina, mannaggia, comunque metterci qualcosina vabbè, vabbè, fa lo stesso quindi questo, poi devo editare il video di ieri e il video dell'altro ieri per qua il canale youtube quindi sabato e domenica e purtroppo sono dei bei pacconi perché ho registrato ho registrato qualcosina, la festa, è stato molto divertente ma ho bisogno di una pausa da queste cose ragazzi ho bisogno di una pausa bella intensa da assolutamente dal bere anche perché ho letto la bilancia stamattina e anche ieri sera e purtroppo non si scherza mi dice ancora l'ennesima volta che sono sovrappeso ma stavolta sono peggiorato addirittura ho toccato il 23% di massa grassa, 23,1 che è la prima volta da quando la bilancia che fa così tanto di solito il 22, 22,7, 22,1, 23,1 è tanto, è tanto e mannaggia, ci devo dare un taglio oggi non penso di riuscire ad andare in palestra magari posso andare, posso provare ad andare dopo il video stasera tipo essere là per le 10 e fammi un'oretta 9 e mezza to però vediamo, perché sì ho riposato perché sono andato a letto alle 10 ma non sono neancora del tutto riposato cioè non ho recuperato tutti gli arretrati purtroppo e quindi tuttora mi sento un po' stanchino mi sono bevuto un bel po' di caffè quindi mi dovrei svegliare fuori ma potrebbe andare decisamente meglio ragazzi decisamente meglio comunque adesso un po' di music come al solito e noi ci vediamo dopo è arrivato il momento che tutti noi aspettavamo adesso sono tornato a casa dal lavoro sono le 18.39 ora inizio ovviamente a editare tutti i video per il canale youtube americano stasera vorrei andare in palestra perché è veramente da martedì che non ci vado e se tutto va bene metti che per le 10 finisco tutto misa di accia vabbè insomma signori siamo qua dalla bellezza di un'ora e 12 minuti un'ora e 12 minuti che impazzisco però sono riuscito a editare due storie su tre quindi sto spaccando oggi siamo velocissimi quindi riuscirò sia a mangiare abbastanza relativamente presto perché secondo me per le 9 e mezza dovrei aver finito tutto compresa la cena speriamo e vuol dire che dopo mi faccio una bella passeggiatina in palestra e vado in palestra un'oretta insomma meglio di niente oh ragazzi dopo due ore di lavoro praticamente poco meno di due ore di lavoro sono riuscito a finire anche questa settimana e vittorioso adesso mi devo mettere lì a cucinare qualcosina così sto alle 9 e mezza potrei essere in palestra sto lì un'oretta alle 11 e un quarto sono a casa e posso editare il video di youtube come avete capito il lunedì sono too much too much for me però come mi piace pensare è momentaneo giusto? no al fine niente palestra ragazzi sono arrivati i miei fratelli qua a casa e quindi sono stato un po' con loro ho giocato un po' a fifa ho stracciato uno e mi sono fatto fare il culo da quell'altro quindi non benissimo comunque ragazzi vi invito a mettermi piace commentare iscrivetevi al canale attivate la campanella noi ci vediamo domani per un prossimo video lavorerò da remoto quindi posso dormire quella mezz'oretta extra ciao ciao